Sempre più pericolante qui a Porta Trapani, uno dei centri neuralgici del tessuto viario alcamese, sempre più pericolante questo palo segnaletico che vedete si è andato ad inclinare sempre più fino ad andare proprio a appoggiare, appoggiare contro quest'altro cartello. Adesso vediamo anche da un'altra prospettiva, qui siamo proprio di fronte alla Pia Opera Pastore, questo è uno degli incroci più transitati, più trafficati della città di Alcamo, qui davanti a noi la chiesa della Madonna delle Grazie e vedete questa è la base del palo e qui vedete questi cartelli che ormai sono in condizioni veramente fatiscenti, sicuramente intanto da sistemare il palo o comunque da sostituire del tutto, più volte non soltanto tramite Alcamondo Blog è stata segnalata la presenza di questo palo pericolante che adesso come possiamo vedere rappresenta un rischio sempre più grave. si auspica dunque che chi di dovere sistemi adeguatamente questo palo.